Dotati di un fiuto eccezionale e addestrati a individuare ogni minima pista olfattiva, i cani molecolari sono fondamentali per trovare le persone scomparse. A Consonno, la città fantasma sul monte di Brianza, è stato organizzato un workshop con istruttori internazionali, il primo di questo tipo in regione. Si terrà il 20 e 21 novembre a organizzarlo il Mare e Monti Team Cinofilo di Genova. Previste esercitazioni in situazioni tecniche e logistiche di difficoltà estrema, con l'ausilio di istruttori del calibro dello svizzero Ivan Schmidt, in prima linea nei famosi casi di cronaca come la scomparsa di Yara Gambirasio e delle gemelline Schipp in Svizzera. Una quindicina i binomi cane conduttore, tra cui diversi appartenenti a nuclei di protezione civile, che parteciperanno al fine settimana di alta formazione nel settore della ricerca delle persone scomparse e forense. Abbiamo fortemente voluto questo evento, spiega l'istruttore Ivan Schmidt, in quanto gli ultimi fatti di cronaca ci dimostrano come la formazione e le esperienze in ambienti e tipologie di scene diversificate sia fondamentale nel bagaglio di ciascun binomio. Molti i casi irrisolti, troppi i casi che terminano in tragedia e dove un intervento tempestivo frutto di una consolidata formazione avrebbe potuto cambiarne gli esiti. Dunque l'obiettivo di queste due giornate è quello di permettere ai partecipanti, attraverso un sano confronto, l'accrescimento e il consolidamento della propria formazione nell'ambito della ricerca persone scomparse. Le prove di lavoro, conclude Ivan Schmidt, avverranno sia in diurna che in notturna, mettendo a dura prova la resistenza fisica e psicologica dei partecipanti.